Musica Cari amici di Classi Garage, un cordiale benvenuto da parte di Carlo Braccini, puntata oggi importante, intanto vi presento immediatamente i nostri ospiti, qui al centro Elena Fumagari, responsabile comunicazione di DS Italia, benvenuta Elena, e poi all'estrema destra dello studio Maurizio Marini, responsabile del centro documentazione storico Citroen DS. Una puntata interamente dedicata al marchio DS, alla storia della DEA, la DS, insomma una delle grandi protagoniste, ovviamente Citroen DS, ma poi questo marchio, come vedremo anche con l'aiuto di Elena, è stato recentemente portato a nuova vita, è diventato un brand autonomo, indipendente, e quei valori proprio della Citroen DS e della DEA sono stati proprio alla base di un lavoro importante fatto proprio dal nuovo brand DS. Questo ci serve anche per raccontare quanto affondare le radici nella propria storia, nell'heritage, sia ritenuto oggi sempre di maggiore importanza da parte dei costruttori attuali. Ma comincerei proprio da Maurizio, che è un po' insomma una parte importante della memoria storica della DEA, di questa Citroen DS, che irrompe nel mercato negli anni 50 e cambia un po' tutto lo scenario, è così? Certo, certo sì. In realtà è una storia che parte molto più da lontano, parte dalla seconda metà degli anni 30, quando Citroen decide di dare un seguito alla traction avant, vettura nata da pochissimo tempo, che poi in realtà resterà in produzione sino al 57, ma senza prevedere certamente la seconda guerra mondiale all'orizzonte, i tecnici di Citroen decidono che è arrivato il momento di studiare una nuova auto, che sposti il calendario avanti i 20 anni. Erano un team eccezionale, composto da un ingegnere aeronautico che si chiamava André Lefevre, che era anche il papà della traction avant e sarà poi anche il papà della due cavalli. Uno stilista italiano di Varese, Flaminio Bertoni, genio assoluto, che si sentiva molto più un pittore, uno scultore, che non un designer automobilistico, però potremmo dire che forse è il primo vero car designer della storia, perché non era un disegnatore, era un uomo capace di pensare in tre dimensioni, come oggi si fa con l'ausilio dei computer, un genio. Poi c'era un altro tecnico francese che si chiamava Paul Magé, che è l'inventore del celebre sistema idraulico che dà vita, che anima l'ADS. L'ADS arriva quindi dopo quasi vent'anni di studio, il 6 ottobre del 1955, al Grand Palais, il palazzo delle esposizioni di Parigi, dove si tiene il salone dell'automobile. È vero che c'era stata una lunga preparazione con i quotidiani di Francia, che non aspettavano altro che l'arrivo della nuova Citroën, della bomba Citroën, come la chiamavano, la bomba Citroën, ed esplosa in tutta la sua potenza, con 749 ordini in 15 minuti, 12.000 ordini il primo giorno, 80.000 ordini alla fine del salone, per un'automobile che esisteva sì, ma non c'era ancora neanche la linea di montaggio. Dobbiamo dire che c'era anche un po' tutto l'orgoglio della Francia vincitrice della guerra, la Francia che ritornava a essere una grande nazione industriale, la Francia di De Gaulle, che insomma voleva anche in campo automobilistico dimostrare di essere degna della grandeur francese, insomma. C'era anche un po' di retorica in questa enfasi verso quest'automobile che doveva rappresentare, come poi ha rappresentato, il meglio del genio francese, anche se poi, come già appena detto Maurizio Marini, ma lo sapevamo, la penna è di un italiano, di Varese, del grande scultore Flaminio Bertoni, quindi insomma c'è un bel po' d'Italia nel successo della DS, della DEA. Assolutamente, assolutamente sì. De Gaulle ne fece la sua bandiera immediatamente. Ricordiare tutta la sua limousine nera, insomma, che ha usato in tutte le occasioni, come tutti i presidenti francesi. Assolutamente, e l'amore di De Gaulle arrivò a livelli parossistici quando nel 1962 una DS gli salvò la vita, perché nel corso di un attentato l'autista con due gomme a terra, alla guida della DS, riuscì a seminare le auto degli inseguitori che continuavano a sparare alla povera vettura, portando il generale sino all'aeroporto. Lui scese, guardò la macchina e disse, sparano da cani, e si fece portare via. Però non scese mai più dalla DS. Il suo autista ci ha raccontato che era solito la domenica farsi portare nel bosco a bordo della sua DS-21, seduto nel sedile posteriore, da cui non scendeva. La moglie andava a fare una passeggiata nel parco, lui restava, leggeva il giornale, poi si faceva riportare a casa. Per lui era un'auto, un abitacolo, era un posto dove si sentiva bene. Tanto che il giorno che lo costrinsero ad adottare una versione blindata della DS per paura di altri attentati, lui la usò una sola volta perché non poteva comunicare con il suo autista a causa del vetro di separazione blindato, rifiutò di salirvi ancora. L'auto fu usata poi da Pompidou, ma lui stava bene solo nella DS. Ecco, io vorrei chiedere a Elena Fumagalli, tu rappresenti la DS oggi, che abbiamo detto da vettura importantissima, qualcuno l'ha definita la più bella automobile del mondo, la più innovativa e un'opinione piuttosto diffusa che sia un'auto che non è uguale sotto tanti aspetti. Tu, però, come dire, rappresenti il prodotto di oggi, DS, un brand che è diventato autonomo da pochissimo e che ha preso proprio dalla dea e dalla DS alcuni valori fondamentali. Ecco, quanto è importante per DS oggi affondare le proprie radici in quella geniale intuizione di André Citroën firmata da Flaminio Bertoni. Ma, come dicevi tu... Senza scimmiotarla. Assolutamente. Il marchio DS è giovane, è nato da pochi mesi, da poco più di un anno, ma può contare su questa storia, può affondare le sue radici nel passato e soprattutto può attingere a quegli stessi valori che hanno caratterizzato le DS di 50 anni fa, di 60 anni fa, dal 1955 ad oggi, che oggi può reinterpretare nei modelli di oggi. Assolutamente non vuole essere una retrologia, non vogliamo ricostruire, appunto, le vecchie vetture. Noi guardiamo avanti perché DS Automobile è un brand che si firma con Spirit of Avantgarde e quello stesso Spirit of Avantgarde è quello che caratterizzava la DS 19 del 1955, come Maurizio raccontava, e che ruppe gli schemi proprio degli automotivi di quell'epoca. Quindi questa stessa avanguardia, questa audacia, il design, la tecnologia che caratterizzarono allora le DS del 1955 caratterizzano ancora oggi i nostri prodotti della gamma attuale. Design che si ritrova nelle linee scolpite e tese della nuova DS 5, piuttosto che nelle linee della nuova DS 4 o di DS 3. Tecnologia che ritroviamo nelle nuove sospensioni, per esempio, di nuova DS 5, piuttosto che nei sistemi di mirror screen, di infotainment, o nei gruppi ottici che associano la tecnologia LED con la tecnologia Xeno, oppure i sistemi di connettività che consentono di chiamare, per esempio, la chiamata di assistenza di emergenza in caso di necessità. Tutte, diciamo, rappresentazioni di quella stessa tecnologia che animava la tecnologia delle DS del passato. Il design, l'abbiamo detto, ma è anche, per esempio, la possibilità di personalizzazione, perché come le DS classiche avevano la possibilità di scegliere, di accostare il colore della pelle, degli interni dei sedili e degli interni delle portiere, col colore della carrozzeria, ancora oggi questa personalizzazione è un elemento che caratterizza le DS e quindi nuova DS 3 offre la possibilità di scegliere tra il colore della carrozzeria, il tetto, la nuova DS 4, lo stesso, insomma, tutti elementi che ritroviamo, delle nuove versioni, ma che proprio ereditano quegli stessi valori delle DS. Affondano le radici, come dice giustamente Elena Fongali. Nel passato vedete quanto è importante anche per chi costruisce e vende automobili oggi avere un passato a cui fare riferimento. Adesso, brevissima pausa, diamo la linea alla regia perché abbiamo preparato un contributo che racconta velocemente le tappe fondamentali della storia della Citroen DS. Nella storia dell'automobile solo alcuni modelli possono essere definiti opere d'arte, degne di figurare in un museo d'arte moderna. Nel caso della Citroen DS si può affermare che siamo di fronte ad una vera e propria scultura creata da un genio italiano, il varesino Flaminio Bertoni. Suo è infatti il design veniristico di questa Citroen, che a distanza di quasi 60 anni dalla presentazione conserva intatto il suo fascino rivoluzionario. Fin dalla passerella di Parigi nel 1955 il successo di pubblico fu travolgente con 80.000 prenotazioni fissate nei soli giorni del salone automobilistico. Il progetto di quest'auto risale agli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale. In Citroen infatti si voleva sostituire la trassione Avant, già disegnata anni prima da Bertoni con un nuovo modello denominato VGD, ossia Vehicula Grandi Fusion. Il periodo bellico constrinse però a rimandare il progetto fino ai primi anni 50, quando Bertoni, che nel frattempo aveva anche disegnato la 2 cavalli, iniziò a lavorare a quella che sarebbe stata la DS, vettura a trazione anteriore, non solo innovativa nel design, ma ricca di inedite soluzioni tecnologiche. Prima fra tutte, il sistema delle sospensioni idropneumatiche a ruote indipendenti, che permette di mantenere costante l'altezza da terra della vettura, annullando così i disagi su strade dissestate o sterrate. Il sistema consisteva in quattro sfere di acciaio, una per ruota, contenenti olio e azoto divisi da una membrana. Il principio della comprimibilità di un gas, l'azoto come si è detto, e della incomprimibilità dei liquidi, cioè l'olio, costituisce la base su cui è stato sviluppato il sistema. Come illustrato in un'animazione dell'epoca, una pompa centrale mantiene in pressione l'olio del circuito, costituito dalle sfere, al cui interno l'olio interagisce con l'azoto. In pratica l'azoto, sotto la pressione dell'olio, cambia volume, divenendo l'elemento elastico della sospensione. Un braccio collega ogni ruota al telaio e un pistone per ogni sfera trasmette le sollecitazioni all'olio in essa contenuta. A variare è dunque il volume dell'azoto, anche se la sua massa rimane inalterata. Il sistema consente di interferire sulla pressione dell'olio per regolare a piacere l'assetto. Quest'ultima opzione non fu disponibile al momento del lancio, ma già un anno dopo tutte le DS disponevano nell'abitacolo di una leva a 5 posizioni, che consentiva la regolazione manuale delle sospensioni, arrivando perfino ad un'altezza da terra che permetteva la sostituzione di una ruota senza il classico cric. Fin dal primo momento, invece, il circuito idraulico delle sospensioni idropneumatiche serviva anche per il funzionamento del servofreno, del servosterzo e del cambio semiautomatico. All'auto nata dal progetto VGD fu dato il nome di DS, che in francese significa DEA, ma che è anche una sigla che sta per DESIRE SPECIAL. Alla nuova DS-19, questa la denominazione del primo modello, fu abbinato a un 4 cilindri 1.9 da 75 cavalli. A questo originale auto fu anche dato il soprannome di Ippopotamo, prendendo lo spunto dal grande cofano anteriore, che se aperto faceva ricordare la bocca dell'animale. Tra le caratteristiche uniche di questa Citroën, dotata di un ottimo coefficiente di penetrazione aerodinamica, c'erano anche i gruppi ottici circolari verticali, le semicarienature sui passaruota posteriori, il volante con un'unica razza, per ridurre i danni al conducente in caso di impatto e i freni a disco sulle ruote anteriori, per la prima volta usati su una vettura europea. Nel 1957 fu lanciata una versione più economica della DEA, la ID, dal francese ID, idea, con il cambio manuale. All'inizio del 1959 fu proprio una ID a vincere il rally di Monte Carlo con Paul Coltelloni. Fu la prima di molte vittorie nei rally anche della DS. Nel frattempo, nel 1958, erano state proposte la versione cabriolet con capote in tela e solo due porte, e la DS 19 Prestige, versione di rappresentanza prodotta in soli 29 esemplari. Con piccole modifiche meccaniche, estetiche come i rostri di gomma sul paraurti e con l'arrivo della top di gomma, la produzione proseguì fino al 1965, con modello pressoché invariato e con la possibilità, dal 1963, di richiedere la trasmissione meccanica e il cambio manuale. Nel 1965 fu rinnovata la gomma, introducendo la DS 21, col motore da 2.175 cm³, mentre sulla DS 19 arrivò un 2 litri da 90 cavalli. Nel 1967 fu introdotta la seconda serie, e caratterizzata dai nuovi gruppi ottici carenati battezzati Occhi di Gatto, per il loro design e costituiti da due proiettori accoppiati, di cui uno autodirezionale, che ruotava insieme allo sterzo, consentendo un'ottimale illuminazione. L'anno dopo la DS 20 sostituì la DS 19, col motore 2 litri da 103 cavalli. Fu poi lanciata anche per la DS la versione ebreche, e il motore della DS 21 fu potenziato a 115 cavalli. Nello stesso anno fu realizzata in un solo esemplare dal carrozziere Chaperon, già creatore di numerose DS fuori serie, la Presidenzielle Auto, destinata all'allora presidente francese De Gaulle. Nel 1969 fu prodotta la DS 21 IE, con iniezione elettronica, e il motore raggiunse i 139 cavalli. Al tempo stesso la ID cambiò denominazione, diventando The Special e The Super. La produzione delle rinominate ID e della DS in varie versioni e motorizzazioni, tra cui l'introduzione della DS 23 con motore da 2300 cm3, proseguì con limitate modifiche fino al 1975, quando uscì dalla catena di montaggio l'ultima DS. Proprio nel 1975 arrivò a rally del Marocco l'ultimo successo sportivo di una lunga serie, tra cui la vittoria di Toivonen, con la DS 21 a rally di Monte Carlo nel 1966. Amici di Classic Garage, eccoci tornati qui in compagnia di Elena Fumagalli, responsabile di comunicazioni di DS Italia, e di Maurizio Marini, responsabile del centro di documentazione Citroën e DS. Ovviamente avete visto Citroën DS in questa nostra scheda, grande protagonista di questa puntata, dedicata proprio a questa automobile, da molti considerata l'automobile più bella e più importante per tutte le innovazioni che ha saputo portare dal momento della sua nascita nel 1955. Solo per fare un piccolo esempio, alle nostre spalle potete riconoscere la sagoma del muso di una Jaguar E-Type, mi viene in mente diabolica, anche se era una versione Coupé, mentre questa è una versione convertibile, e insomma, l'auto del rivale di Diaboli, che è il commissario Ginko, era una DS 19. Quindi, immagino poi nella storia del cinema, della letteratura, insomma, veramente, c'è stato tantissime rappresentazioni, ci sono state, della DS. È stata una vettura iconica, che è stata molto apprezzata dagli artisti, dagli sceneggiatori. Assolutamente, assolutamente, sì. Anzitutto per la sua presenza scenica, indubbiamente importante. Il caso specifico delle sorelle Giussani è abbastanza... Di Diabolik. Di Diabolik, sì, è abbastanza, insomma, importante, e aiuta a capire un po' come funzionavano queste cose. Certo, un 1900, un 2000 contro un 38, insomma... Sì, ma queste erano due sorelle che venivano dal mondo della moda e si erano inventate questo nuovo format, come diremmo oggi, questo fumetto poliziottesco... Dalla parte del cattivo? Sì, dal punto di vista del cattivo. Comunque loro di motori sapevano ben poco. Loro avevano due amici, di cui uno si chiamava Walter Dorian, che ci ha raccontato l'editore, poi fu il primo pseudonimo di Diabolik, che aveva una Citroen DS. E loro in questa macchina vedevano una certa aggressività, la stessa che vedevano nella Jaguar E-Type, ma la loro ignoranza in termini di meccanica le portò a nascondere la prima vittima di Diabolik nel cofro motore della Jaguar, perché pensavano che fosse il bagagliaio. Per cui, insomma, diciamo che l'accostamento, almeno inizialmente, non avvenne per ragioni di comparabilità tecnica, anche se poi la storia ha dato ragione alla DS quando si è giudicata un palmarè. Ricordiamo che la DS è stata utilizzata nelle competizioni, ha vinto, ha vinto molto, ma nonostante potesse essere considerato solo una berlina. Ha vinto in un periodo in cui le auto che correvano i rally erano auto strettamente di serie. Non erano auto modificate, non erano i mostri che corrono oggi sulle piste che si ispirano alle auto da cui derivano, ma insomma hanno poco più dell'aspetto. Ecco Maurizio, vogliamo ricordare brevemente, perché non basterebbero dieci puntate, quali erano, al di là di questo stile, abbiamo detto, ma ci torneremo più avanti, disegnato, forgiato, mi verrebbe da dire, da uno scultore, da un pittore come Flaminio Bertoni di Varese, che ha disegnato uno degli automobili più straordinari della storia. Ma lasciando da perdere per un attimo lo stile, il design, perché quello è facile, basta sfogliare una rivista o guardare dal vivo una DS o vederla in televisione si capisce che è qualcosa di straordinario. Ma dal punto di vista della tecnica, nel 55 avviene una rivoluzione. Trazione anteriore, Citroën c'aveva già abituati da 20 anni alla tecnologia del tutto avanti, che era qualcosa di paragonabile all'astronautica, insomma, rispetto all'automobile di allora. Ma DS introduce qualcosa di straordinario. E pattele il mondo entier, stupire il mondo intero. Questo era quello che voleva Andrea Lefevre e ci riuscì diverse volte. Devo dire due parole, quali erano le innovazioni tecnologiche? Allora, ci vorrebbero 20 puntate anche per questo. Sintetiso e dico quelle che secondo me sono le principali. È la prima auto di serie con i fregni a disco. È la prima auto europea con il servosterzo. È tra le primissime auto costruite con materiali compositi, perché ha il tetto in vetro resina, il cofano in alluminio, tutto per portare il baricentro sotto all'asse delle ruote, sotto al centro delle ruote. È l'unica auto che ha il sistema di guida, lo sterzo, quindi il sistema di pivotaggio delle ruote anteriori, che lavora sull'asse esatto dello pneumatico. Uno sforzo tecnologico inimmaginabile per l'epoca, che portò Citroën a cercare produttori di cuscinetti avanzatissimi. Ne trovarono solo in Germania. Era una ditta che lavorava per blasonatissimi marchi tedeschi, che fu costretta a impiantare una linea di montaggio speciale per quel tipo di vettura. E poi l'incredibile impianto di sospensioni idropneumatiche, che nella DS comandava anche la frizione, il cambio, che era quello che oggi chiameremo robotizzato, ovvero interamente asservito all'idraulica. Stiamo parlando a metà degli anni 50, concettualmente. Immaginate cosa costruivano le concorrenti in quel periodo, paragonato a quello che era capace di fare alla DS. E poi questo sistema di sospensione a correzione automatica, quindi autolivellante, che garantiva al tempo stesso tenuta di strada e confort, perché non c'erano elementi metallici soggetti a pendolarità, quindi le molle da frenare con gli ammortizzatori. Era un gas che si comprimeva e ritornava nella sua posizione originale. Pensate a cosa erano le strade all'epoca. Oggi è molto più semplice costruire una buona sospensione, perché le strade sono quasi dappertutto abbastanza orizzontali, regolari, le autostrade, ma immaginate cosa erano le strade negli anni 50. Io, per esempio, racconto, mi concedo due minuti, un ricordo personale, bambino, nei primissimi anni 70, ricordo con emozione, e questo ricordo mi è rimasto poi ancora dentro, sai quei flash che arrivano dall'infanzia, ricordo un amico di famiglia, io vengo dalla famiglia dove si guidavano solo auto italiane, e quindi io ero così attratto dalla linea di questa automobile, di questo amico di famiglia, al mare, e quindi feci i capricci per poter andare con questi amici, con la loro automobile, a fare un giro, e ricordo con un'emozione incredibile il famoso momento in cui si alzavano le sospensioni. Non era così immediato, ci metteva qualche secondo. Diciamo che si alzava prima l'anteriore, mi sembra, e poi il posteriore. Io ero lì, estasiato, al posto del passeggero di questa DS, credo fosse una DS-21, non so, e io rimasi veramente colpito, e quel ricordo mi accompagnerà tutta la vita, insomma, è un flash di un'emozione che, insomma, quando poi mio papà allora guidava, credo, un 125 Fiat, un 132, non lo so, mi sembrava una roba proprio improponibile, ricordo che si offese anche abbastanza, quando glielo feci notare, ma questa non si alza, ma questa non è fatta così, non è per un bambino che coglie alcuni elementi, veramente il fascino dello stile e queste sospensioni che si muovevano da sole, da fermo, era una cosa straordinaria, quindi, insomma, nell'immaginario di tutti, credo che ci sia un pezzo di DS, insomma, e questo è forse alla base anche dell'amore che oggi tanti, oltre al valore storico, hanno verso la DS. Dal punto di vista proprio del valore, il valore non tanto quello affettivo che ho citato io, ma è quello più legato al denaro. Si può ancora oggi portarsi in garage un ADS, soprattutto delle ultime generazioni, a quotazioni molto, molto interessanti. Maurizio, è una delle ultime occasioni da prendere al volo, il modello è destinato sicuramente a rivalutarsi parecchio, probabilmente sì. Quale può essere il consiglio per chi intende portarsi questo pezzo di storia in garage prima che sia troppo tardi? Probabilmente sì, è un'auto costosa, non tanto nell'acquisto, quanto poi nel restauro e nella manutenzione. Può rivelarsi estremamente oneroso restaurare un ADS se questa è intaccata in maniera severa da ruggine o consumata dai chilometri. Si parla di vetture che hanno un ordine di prezzo molto diverso perché sono auto molto diverse tra loro. Un ADS 19 del 1955 ha pochi pezzi in comuni con un ADS 23 del 1975. Le ultime sono certamente più semplici da manutenere. E come questa forchetta di prezzo quant'è più o meno? Diciamo che andiamo dai 6, 7, 8 mila euro fino a oltre 40 mila per un'auto. Quindi è una forchetta molto ampia. Assolutamente. Per cui sì, bisogna scegliere un esemplare giusto anche per le proprie aspirazioni. Se si intende utilizzarla molto converrà a cercare una delle ultime serie. Se si cerca la purezza delle linee di Flaminio Bertoni è indispensabile andare indietro nel tempo e cercarne una magari degli anni 50. Ecco, ma serve da dare attenzione al prezzo d'acquisto se è molto allettante perché, come abbiamo detto, il costo di ripristino e di manutenzione può essere molto importante, superare di gran lunga il valore stesso della vettura. Quali sono le componenti più delicati? Immagino che le sospensioni e i freni idraulici siano tra gli elementi da considerare maggiormente perché il loro costo di ripristino è piuttosto importante. Sì, è un costo importante ma fortunatamente esistono delle ditte specializzate in Italia, mi viene in mente la Tecnosir di Bassano del Grappa che riproducono con una tecnologia moderna quindi volendo ancora più precisa i pezzi che venivano fatti all'epoca. Più difficile è il recupero dei telai quando sono molto intaccati dalla ruggine. Soprattutto le ultime serie soffrivano un po' di questo fenomeno per cui probabilmente i modelli ideali sono quelli costruiti tra il 66 e il 69 possibilmente quelli fatti in Belgio dove c'era una fabbrica che lavorava quasi artigianalmente e che dedicava ancora più cura alla protezione dei telai. Sono inossidabili. E io voglio chiedere adesso a Elena Fumagalli voi vendete le auto moderne ovviamente DS però avete insieme ai vostri cugini di Citroën e Peugeot ho fatto una scelta secondo me molto interessante quella di dotarvi di un parco stampa limitato ma interessante proprio con la vettura d'epoca. Cioè voi avete in parco stampa a disposizione dei media per far conoscere e apprezzare il vostro marchio addirittura una DS dei primissimi anni 70 che avete completamente restaurato. E questo guardate che in Italia lo fanno solo loro non c'è nessun altro brand anche con un grande passato una grande tradizione che ha pensato di riproporre oggi delle vetture restaurate per far provare le emozioni e le sensazioni di guida che offrivano quell'automobile di 30, 40, 50 anni fa. Sì, è proprio come dici tu perché salire su una DS 23 Palace del 74 e provare quel comfort solo accomodandosi su questi sedili che sembrano delle poltrone e poi appunto accendere il motore farla sollevare e provare quella maneggevolezza che di fatto è ancora attualissima sono sensazioni che vanno veramente provate. Queste vetture vanno viste, toccate e quindi abbiamo deciso proprio in occasione dei 60 anni di DS l'anno scorso, nel 2015 di restaurare una DS 23 Palace, tra l'altro del 1974. Di fatto abbiamo mantenuto quegli elementi che erano ancora funzionanti e sono stati sostituiti invece quegli elementi che erano oramai un po' deteriorati e quindi è stata riverniciata ricostituendo esattamente il colore Green Acre del suo originale i sedili in pelle sono stati rifoderati utilizzando un fornitore che è unico in Italia e che fornisce queste pelli lavorate con le impunture esattamente con la stessa distanza di come erano prodotte negli anni appunto del 74 sono stati rivisti e risistemati tutti i sistemi appunto a bordo che non erano perfettamente funzionanti e oggi è una vettura che viaggia su strada e che si può e che i giornalisti possono provare per vivere questa emozione perché come dicevi tu è un'emozione una DS va proprio vissuta sia quelle d'epoca come quelle attuali di oggi. Naturalmente adesso diamo rapidamente la linea di regia abbiamo visto prima una clip proprio sulla storia della Citroën DS adesso andiamo a vedere ancora dei contributi interessanti perché raccontano altri momenti di questa storia che si intreccia con quella personale di Flaminio Bertoni questo italiano questo scultore questo pittore che ha firmato le linee immortali della DS e andiamo a vedere anche altri aspetti proprio importanti legati a questo modello che ha fatto una parte importantissima della storia dell'automobile moderna. alle 9 del mattino del 6 ottobre 1955 una folla compatta si accalcava dietro la ringhiera bianca che separava il pubblico dalla vedette dello stand Citroën al Salon dell'Auto di Parigi la DS 19 la DEA era lì finalmente visibile a tutti nel primo quarto d'ora furono firmati 729 ordini saranno 12.000 a fine serata e oltre 80.000 al termine del Salon un successo senza precedenti che terminerà solo il 24 aprile del 1975 con l'uscita dalle catene di montaggio dell'ultima DS una stupenda 23 Inession Palace di color blu delta La storia dell'ADS inizia sul finire degli anni 30 quando il direttore generale della Citroën Pierre-Jules Boulanger inizia a pensare alle rede dell'attrazione a van e ne affida il progetto ad André Lefevre giovane ingegnere responsabile del centro studio e progetti della marca L'Efevre proviene dalla Voisin è un ingegnere aeronautico che ha fatto tesoro delle sue esperienze nel campo dell'aerodinamica Al suo fianco ci sono Paul Mage l'ideatore delle sospensioni idropneumatiche Flaminio Bertoni il geniale stilista italiano che ha già scolpito le forme della trazione a van e Walter Becchia l'esperto di motori L'Efevre ha le idee molto chiare vettura estremamente aerodinamica baricentro più basso possibile riduzione delle masse non sospese peso per i due terzi sulla sale anteriore e telaio a piattaforma con gli elementi di carrozzeria leggere e smontabili A Bertoni fu chiesto anche di ridurre al minimo lo spessore dei montanti laterali e di quelli del parabrezza L'Efevre voleva una vettura luminosa addirittura priva delle cornici dei finestrini una sfida che l'italiano come Bertoni veniva chiamato in Citroen raccolse con entusiasmo Papà cominciò a progettare questa vettura l'idea gli venne proprio da un pesce e pian piano modificando uscì questo disegno che però quando fu pronto per essere tramutato in opera si si accorse che la vettura era troppo lunga per i box francesi non ci stava allora avevano già fatto i tetti avevano già fatto i telai purtroppo dovevano accorciarla di 40 cm però il tetto era sempre troppo lungo nei confronti dietro della macchina e allora a un certo punto bisognava mascherare questa rottura che c'era tra il tetto e il cofano della macchina e lui in 448 proprio così mi raccontava Opron cosa fece? prese un pezzo di un foglio d'alluminio lo piegò a cono lo mise vicino al tetto dice va bene così qui facciamo i fari direzionali e questi fari nascondono un po' quella rottura che c'è tra il tetto e il cofano dietro la sensuale sagoma della DS19 poggiava su una base meccanica assolutamente straordinaria un concentrato di innovazioni tecnologiche senza precedenti prima tra tutte l'impianto idraulico ad alta pressione di Paul Magge un sistema integrato che governava l'impianto frenante dotato per la prima volta in serie di dischi all'avantreno il cambio la frizione lo sterzo e la celebre sospensione idropneumatica tutt'oggi prerogativa della Citroen d'alta gamma e allora amici eccoci tornati in studio qui Classic Garage per raccontare la storia della DS Citroen DS poi ovviamente questo brand che è diventato da poco anche un brand autonomo e tutta questa storia incredibile legata a questa automobile che compare nel 55 diventa un'icona e ha introdotto talmente tante novità sotto il profilo stilistico sotto il profilo tecnologico e funzionale veramente da diventare un mito nella storia dell'automobile io vorrei chiedere ancora a Maurizio Marini che ricordo è responsabile curatore del centro di documentazione storica di Citroen e DS quindi un po' il punto di riferimento in Italia per i tanti appassionati che vivono proprio la passione per questa straordinaria automobile che però non è solo la passione per DS perché a DS si può come dire avvicinare idealmente un altro modello importante di quella che fu la storia di Citroen che in qualche maniera è stato anche questo come dire preso dalla tradizione invece del brand attuale di S che è il brand di lusso alla francese c'era questa Citroen SM che voleva dire Citroen Maserati che era frutto di un'alleanza industriale non felicissima dobbiamo dire in quegli anni tra la Citroen e la Maserati che forniva la meccanica che però poi a distanza di tempo si è rivelato un progetto che aveva delle fragilità legate soprattutto alla meccanica alla complessità della meccanica italiana abbinata alla complessità delle soluzioni d'avanguardia utilizzate dalla Citroen però poi a distanza di anni guardandola con gli occhi di oggi veramente si resta esterrefatti è un qualcosa anche quello di assolutamente innovativo geniale creativo e SM in Italia in particolare non è ancora considerata un'automobile icona e questo fa sì che si trovino degli esemplari sul mercato a condizioni interessanti sul profilo economico se l'acquisto di una DS può essere un azzardo se i costi di ripristino non vengono ben calcolati l'acquisto di un SM con un motore Maserati può essere veramente un incubo se non si sta molto attenti può essere anche la fare della vita sì allora SM è la super macchina è un po' il sunto delle esperienze tecnologiche fatte con DS spostate ancora più verso l'alto nella quella che doveva essere la gamma Citroen per gli anni 70 poi la crisi petrolifera la stessa che determinò la morte della DS lo stesso giorno fermò anche l'SM 24 aprile 75 entrambe uscirono di scena perché il mondo era cambiato perché nessuno voleva più l'auto di lusso erano auto da due litri a due litri e sette ricordiamo che c'era stato lo shock petrolifero negli anni nel 73 e tutte le domeniche senza automobili l'austerità insomma il mondo occidentale ha vissuto un attimo di grande sbandamento e come dire nell'incertezza totale del futuro tutto quello che consumava e che era ridondante che era prestazionale veniva cancellato con poca longimiranza dei costruttori perché poi negli anni successivi sarebbe cambiato di nuovo tutto assolutamente assolutamente ma in quel momento le vendite erano all'omicino e fu necessario per quello che era diventato il gruppo PSA con l'arrivo di Peugeot razionalizzare la produzione e quindi rinunciare ai rami secchi e Maserati era un ramo secco Maserati fu acquistata da Citroen alla fine degli anni 60 per avere un motore veramente performante quindi fu dato un ampio margine di tempo sei mesi a Maserati per produrre un motore a sei cilindri per equipaggiare le rete con i tempi di industrializzazione di oggi sei mesi non fanno neanche un cockpit ma anche allora in effetti insomma non riuscirono a convicciare molto il grande alfieri il progettista del motore prese uno dei suoi otto cilindri letteralmente ne segò via due e fece un sei cilindri che però insomma qualche problema di affidabilità come gli otto li aveva che aveva grossi problemi di affidabilità dovuti alla scarsa messa a punto al scarso tempo disponibile per la messa a punto non solo Citroen si immaginava di avere una produzione di motori che riuscisse ad andare al passo con la sua catena di montaggio ma a Modena i motori li facevano a mano per cui dove loro aspettavano 500 motori al mese ne arrivavano 20 quindi c'erano tutte queste belle scocche di SM già pronte vendute ma non c'erano i motori quindi inizialmente fu un matrimonio molto difficile quello con Maserati poi le cose all'inizio andarono bene fino al 73 le vendite di SM erano in continuo aumento nonostante un prezzo di listino che era più o meno il doppio di quello di una DS23 Palace per cui stiamo parlando che era già una vettura insomma importante che era una vettura assolutamente di livello per cui insomma stiamo parlando di cifre assolutamente importanti a quel punto rinunciarono all'idea di averne una versione a 5 porte che avrebbe dovuto sostituire la DS nei loro progetti e alla fine dovessero rinunciare anche alla Coupé però fece in tempo anche lei a stupire sia nelle competizioni sportive soprattutto i rally tipo rally del Marocco che si aggiudicò e altre gare massacranti grazie alle sue sospensioni che erano l'evoluzione di quelle della DS grazie alle sue prestazioni una bella cavalleria aveva circa 200 cavalli 180 nella versione tra loro non erano pochi e non erano pochi per una macchina che pesava 1300 kg poi perché le Citroen dell'epoca facevano della leggerezza il loro il loro momento di vanto un giorno al vecchio direttore della comunicazione di Citroen Francia a Jacques Volgan-Sanger fu chiesto se questa leggerezza non fosse un problema per la sicurezza e lui rispose che le sue vetture erano nate per schivare gli ostacoli non per sbatterci contro ecco sul mercato si trova in Italia ancora qualche SM soprattutto anche le versioni a carburatori che sono più richieste ancora con delle quotazioni interessanti parliamo di 12 13 14 20 mila euro ecco però quali sono i rischi nell'acquistare un SM se non si conosce bene il prodotto e quali possono essere i costi di un eventuale ripristino allora i rischi ci sono anche conoscendo bene il prodotto perché bisogna capire se il motore è stato reso affidabile operazione che si fa prendolo completamente sostituendo la pompa dell'olio sostituendo i tendi catena e tutte quelle parti già spendendo tre quarti di quello che costa la vettura praticamente spendendo quasi quanto quello che costa la vettura sì la parte invece più Citroen lasciando perdere un attimo Maserati la parte più Citroen quindi l'idraulica la sospensione è affidabilissima non solo si trovano i pezzi nuovi riprodotti come dicevamo prima da aziende specializzate per cui quindi la meccanica è la parte Maserati nel caso della SM quello da guardare bene resiste anche bene alla rugge nella corrosione ben protetta la SM possiamo immaginare che come già anche la DS che vedrà crescere naturalmente le proprie quotazioni è ancora secondo me è piuttosto sottovalutata rispetto all'importanza di questo modello nella storia dell'auto per quanto riguarda la SM che è una vera e propria gran turismo dell'epoca possiamo immaginare che le quotazioni cresceranno in maniera esposizenziale nel futuro possiamo immaginarlo ma non nel breve tempo perché comunque i costi di ripristino sono talmente alti da scoraggiare gli appassionati della domenica è un'auto per collezionisti diciamo navigati sì e con altre possibilità compratela se siete se non siete le prime armi con collezionismo se avete degli artigiani di fiducia a cui potetevi rivolgere per una valutazione dei costi eventuali di ripristino se siete in grado di valutare voi e i vostri consulenti le reali condizioni di un SM e insomma se siete pronti anche a qualche imprevisto che capita sempre nell'acquisto delle auto d'epoca però che nel caso dell'SM e del motore Maserati può essere davvero oneroso sicuramente nel lungo termine è un oggetto destinato a dare soddisfazioni anche sotto il profilo della rivalutazione economica che insomma nel nostro mondo di giocattoli a quattro ruote è un aspetto che comunque così ci dà un alibi quantomeno per poter spendere il nostro tempo e il nostro denaro in questi straordinari gioielli Elena c'è un'iniziativa interessante un libro che si chiama proprio una storia d'amore dedicata a DS vuoi raccontarci questo libro? certo proprio per sempre che è stato presentato proprio in questi giorni da pochissimo è stato scritto proprio nel 2015 sempre per celebrare i 60 anni di DS l'anno 2015 è stato veramente importante per noi e è stata realizzata questa iniziativa tra l'altro sul suggerimento proprio anche di Maurizio è stato scritto un libro che si chiama Si trova in DS un histoire d'amore il titolo è esplicitamente vuole esplicitamente richiamare l'amore degli uomini che l'hanno voluta disegnata che l'hanno progettata e l'amore in generale di tutti gli appassionati che l'hanno da sempre amata è stato scritto proprio da Maurizio Marini in collaborazione con Ilaria Paci e Fabrizio Consonni con la casa editrice Edizioni Medice di Firenze e si tratta di 300 pagine in un formato molto grande pagine meravigliose che racchiudono tutta la storia della DS con una serie di fotografie stupende che richiamano la storia appunto dalla progettazione a tutti gli aneddoti degli uomini che l'hanno voluta e amata hanno contribuito anche al libro oltre appunto ai tre autori che ho citato adesso anche Walter Brugnotti il direttore della comunicazione per oltre 30 anni di Citroen Italia Mario Maiocchi l'ingegner Saini che sono stati responsabili di tutta l'unità tecnica di Citroen Italia insomma una collezione meravigliosa che è nata dal fatto di aver aperto gli archivi del centro dell'archivio storico Citroen di DS e di aver recuperato tutti quegli elementi quelle storie alcune inedite che hanno fatto proprio la storia della DS ma Maurizio ce lo può raccontare meglio tanto sia Maurizio Marini che Elena Fungali dovranno tornare a trovarci perché pensare di esaurire in una sola puntata di Classic Garage soltanto una parte anche piccola della storia e dell'importanza di DS veramente impensabile ci sono tanti argomenti non abbiamo parlato per esempio ancora di una delle DS più belle la DS convertibile che ha raggiunto quotazioni sul mercato veramente adeguate si parla di 120 140 150 mila euro di media adeguate al valore ma c'è un problema ci sono un po' di cloni ci sono delle vetture che non sono originali quindi c'è anche lì tutto un capitolo che è destinato ai collezionisti un po' più smaliziati ma che ovviamente vale la pena di essere approfondito e poi su DS solo di aneddoti di personaggi come gli sta raccontando anche Elena Fumagalli ce ne sono veramente tanti la vita di Flaminio Bertoni essa stessa vale più di una serie televisiva e noi di Automoto TV devo dire che poi racconteremo anche in altre trasmissioni la storia di S ancora più nel dettaglio perché veramente attraverso la storia di quest'automobile straordinaria degli uomini che l'hanno progettata voluta disegnata amata e posseduta si può raccontare tanta parte della storia degli ultimi decenni quindi credo che utilizzare l'automobile come paradigma per raccontare la nostra storia i nostri ultimi 50-60 anni credo che possa essere un punto di vista importante anche per i più giovani che magari queste storie non le hanno vissute ma che quando vedono passare un ADS rimangono folgorati si pongono delle domande e si chiedono che storia ha quando è nata chi l'ha disegnata perché è così e soprattutto perché è così diversa da tutto quello a cui siamo abituati bene siamo purtroppo in conclusione di questa puntata di Classic Garage dedicata proprio all'avventura dell'ADS al fascino dell'ADS la vecchia Citroen DS e poi naturalmente grazie anche alla presenza di Elena Fumagalli l'ADS attuale questo brand che sta andando benissimo nel settore del premium del lusso alla francese io ringrazio naturalmente i nostri ospiti Elena Fumagalli responsabile comunicazione di DS Italia Maurizio Marini responsabile del centro di documentazione storica di Citroen e DS ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito su Automoto TV ricordo l'unico canale H24 Sky 148 interamente dedicato ai motori e anche ai tanti che ci seguono attraverso il digitale terrestre sulle tante emittenti che trasmettono il nostro Classic Garage grazie a tutti voi per essere stati con noi da parte di Carlo Braccini appuntamento alla prossima edizione di Classic Garage Grazie a tutti